Salve a tutti, in riferimento al video caricato per una guida alla compilazione del programma TextMaker diciamo c'è un aggiornamento che è successivo diciamo alla registrazione del video stesso che consiste nella creazione sul mio account di GitHub di un repository dedicato al sorgente del programma TextMaker ho desiderato quindi andando in ricerca su internet con GitHub e il mio nome utente quindi in GitHub, Cambio Scripting si trova quindi il repository o meglio il mio account con diversi repository tra cui quello appunto appena creato che è TextMaker e diciamo in questo repository ho inserito il sorgente del programma TextMaker nella sua ultima versione è scaricato dal sito originale come indicato nel video tutorial quindi esattamente andando in download sorgente, questo qui corretto però nelle informazioni fornite all'interno del file install integrando ripeto le informazioni trovate anche nell'altro repository riuniti in un unico diciamo sorgente che continuerà a doversi aggiornare con le successive release del programma e con la semplice diciamo modifica delle informazioni relative alla procedura di installazione riportando anche il link al video tutorial da poter seguire per diciamo ottenere una compilazione corretta quindi diciamo che senza dover è anche un modo per poter riunire un po' tutte le informazioni in un unico luogo e al momento diciamo c'è un'unica branca che è la master dove appunto ci sarà sempre l'ultima release del programma si creeranno altre branche per ciascuna versione del programma stesso perché magari ci potranno essere modifiche diciamo nella sorgente per magari aggiornamenti dei pacchetti e delle dipendenze per cui il tutto sarà da diciamo da doversi aggiornare per la corretta compilazione di un unico sorgente per cui ci saranno branche differenti per release selezionabili qui e poi e quindi selezionata la branca poi si procederà con il download della stessa per la sua compilazione leggendo le istruzioni nell'install e niente questo quindi è un'informazione aggiuntiva che non è riportata nel video tutorial per cui ho dovuto diciamo creare quest'altro aggiornamento per diciamo veicolare l'informazione ok saluto a tutti